esplosioni alla scuola lubic polizia caccia dei responsabili auto contro un tir in autostrada donna soccorsa in elia ambulanza maternità di pesaro il reparto riaprirà a fine settembre giornate fai di primavera ecco i gioielli da scoprire nel weekend fissato a febbraio 2023 il concerto pesarese dei maneskin buona serata benvenuti al nostro telegiornale questa è rossini tv ci state vedendo sul canale 80 se ancora non ci vedete sul canale 80 mi raccomando risintonizzate il vostro televisore oppure per problematiche chiamate il numero della nostra redazione allo 0721 26337 questa sera apriamo occupandoci di un altro episodio allarmante accaduto in una scuola cittadina due bottiglie sono state fatte esplodere ieri infatti di fronte alla scuola primaria lubic un episodio su cui indaga la polizia e sul quale le telecamere di rossini tv hanno raccolto oggi le impressioni della dirigenza scolastica un episodio davvero allarmante quello che avvenuto ieri pomeriggio qui di fronte all'ingresso della scuola primaria chiara lubic di vianitti in piena zona pantano a fianco al parco giochi di largo baccelli qui attorno alle 16 e 30 due esplosioni due micro ordigni rudimentali composti da bottiglie riempite di acido muriatico e carta stagnola che sono esplose a breve distanza ravvicinata non sono state coinvolte persone nell'episodio ma l'episodio è stato davvero inquietante e ha portato la scuola a dare l'immediato allarme per quanto accaduto allarme alle forze dell'ordine alla polizia che ha avviato le indagini sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno coperto con la sabbia le tracce di acido successive alla deflagrazione da questa uscita o entrata escono due classi perché abbiamo differenziato le uscite per il problema del covi già dall'anno scorso sono due classi diciamo che è andato tutto bene perché le due bottiglie sono scoppiate in due tempi diversi una quando era già uscita una classe e la seconda prima che uscisse l'altra classe naturalmente tantissime le chiamate delle famiglie a preside vicepreside a insegnanti che hanno cercato di tranquillizzare così come questa mattina a rientro in classe gli stessi bambini parlavano dell'episodio si è cercato di tranquillizzarli perché non c'è nessuna correlazione non c'è nessun precedente di rivalsa verso la scuola l'episodio sembra assolutamente slegato da qualunque legame con la scuola dunque una mattinata anche all'insegna del cercare di tranquillizzare tutto l'ambiente è difficile da spiegare questa mattina i bambini erano veramente si parlavano fra loro di questo probabilmente allora chi ha assistito chi ha visto era rimasto abbastanza colpito più a casa i genitori ne avranno parlato anche con preoccupazione per cui loro l'hanno assorbita io in particolare con i miei che sono poi una delle classi che esce da qui ho proprio li ho rassicurati ho cercato di dare non troppa importanza alla cosa e ho detto che a volte spero che sia così insomma a volte uno scherzo che vuole essere uno scherzaccio poi può provocare qualcosa di più grosso se uno non ci pensa e quindi abbiamo parlato di questo noi siamo in contatto con le autorità competenti che stanno indagando si stanno interessando tantissimo della cosa e soprattutto proprio per tranquillizzare i genitori dico che noi qui siamo loro ce l'hanno assicurato assolutamente controllati anche se non li vediamo ci sentiamo siamo tranquillissimi intorno alla scuola c'è un grande controllo spero che riescano a capire come sia partita questa cosa chi possa essere irresponsabile o quanti sono non lo so noi non abbiamo idea perché sinceramente forse potrebbe essere stata anche una cosa che voleva essere una specie di brutto scherzo e che invece non si è pensato potesse avere delle conseguenze che per fortuna non ci sono state molto abbastanza gravi qui ci sono dei bambini quindi tranquillizzo i genitori perché noi siamo adesso molto controllati ed ora passiamo alla cronaca e parliamo di un incidente le immagini che vi stiamo mostrando ora si riferiscono proprio ad un'automobile completamente sventrata dopo un incidente in autostrada avvenuto oggi alle 13.15 tra i caselli di Fano e Marotta una donna è rimasta gravemente ferita dopo che la sua auto per cause in via d'accertamento ha tamponato un tir che trasportava un carico eccezionale composto dall'elemento metallico di una macchina perforatrice la donna è stata soccorsa dall'elioambulanza trasportata all'ospedale anconetano di torrette dove i vigili del fuoco di pesaro e i sanitari del 118 hanno effettuato complesse manovre di estrazione dalle lamiere l'incidente ha creato una coda in autostrada durata quasi un'ora Ed ora cambiamo argomento dopo l'anticipazione di circa una settimana fa oggi anche il consiglio regionale ha ufficializzato la riapertura del dipartimento materno infantile dell'ospedale San Salvatore di Pesaro chiuso da circa due anni su sollecitazione del consigliere regionale Nicola Baiocchi l'assessore alla sanità Filippo Salta Martini ha stilato un cronoprogramma secondo cui gli interventi al terzo piano della palazzina dell'ospedale potranno essere completati entro la prossima estate per predisporre la riattivazione dei reparti di maternità e pediatria a decorrere da fine settembre inizio ottobre Nel periodo più duro della didattica a distanza e dei contagi da covid-19 la nostra regione Marche è stata la prima in Italia a investire su impianti di ventilazione meccanica all'interno delle scuole oggi la Giunta ha quindi presentato i risultati scientifici di questo intervento sul quale continuerà ad investire Sono risultati assolutamente importanti e sorprendenti rispetto alla validità della ventilazione meccanica controllata un investimento che ha prodotto risultati sul numero delle aule dove la ventilazione è installata è un investimento che continueremo a fare perché oggi scopriamo l'efficienza e l'importanza di vivere in ambienti salubri per le classi e le scuole e cercheremo di farlo anche per altri ambienti I dati dicono che a secondo della tecnologia applicata che in questo caso è stata scelta da comuni e delle province si va da un miglioramento delle condizioni di salubrità delle aule di due volte superiore a quelle non dotate di ventilazione meccanica controllata fino a ben sei volte e voi capite che avere sei volte in meno di contagiati a causa della diffusione del covid minore in questo caso nelle aule dotate di ventilazione meccanica controllata significa aumentare la salute dei nostri ragazzi, dei nostri concittadini e significa anche ridurre la pressione sulle nostre strutture sanitarie Noi abbiamo fatto un monitoraggio insieme al professor Ricolfi su circa 500 impianti installati nella nostra regione Arriviamo sino al 25 invece per cento delle aule con gli stralci successivi del finanziamento In questo momento stiamo attendendo anche le linee di guida del governo per dare seguito a quella graduatoria di comuni e di province che si sono appoggiate sulla regione affinché potessero essere dotati i loro edifici di questa strumentazione particolarmente utile per combattere non solo la diffusione del covid ma tutte le altre patologie che possono essere trasmesse per via aerea Sì, è stata proprio una delle prime iniziative che avevo chiesto proprio alla Giunta per tutelare i ragazzi e per evitare la prosecuzione della DAD perché queste misure sono state appunto messe in atto per tutelare il più possibile i nostri studenti Già da quando ero parlamentare insieme ai miei colleghi era una battaglia che avevamo iniziato proprio a livello nazionale e appena sono diventato assessore ovviamente abbiamo cercato di mettere in campo più misure e più risorse possibili per attuare questa areazione meccanica nonché anche la misura dei sanificatori perché ricordiamoci che gli interventi sono stati due per un totale di 12 milioni di euro quindi 9 milioni per l'aerazione meccanica, 3 milioni per l'acquisto invece di sanificatori che sono due misure entrambe valide per il contrasto insomma del diffondersi del virus Le telecamere di Rossini TV si sono accese oggi questa mattina esattamente in un luogo splendido e poco conosciuto dalla città di Pesaro come Villa Meuccia Severi una meravigliosa residenza nel quartiere di Monte Granaro che sarà tra l'altro uno dei tanti luoghi visitabili della provincia di Pesaro Urbino in occasione delle giornate FAI di primavera che si terranno il 26 e il 27 marzo aperture eccezionali che ci vengono illustrate dalla responsabile provinciale del FAI Fiammetta Malpassi Quest'anno le giornate FAI di primavera compiono 30 anni per cui è un anniversario molto importante ed è un momento in cui si può riflettere anche su tutti i risultati che il FAI ha ottenuto ma più che festeggiare vogliamo proprio riflettere invece sull'importanza del nostro patrimonio d'arte e natura sul valore identitario che questo bene ha e sugli insegnamenti che i monumenti, gli edifici, le chiese possono darci come riferimento per avere maggiore consapevolezza del valore di questi beni che rappresentano proprio la nostra storia Nella nostra provincia tante aperture coinvolti molti borghi e piccoli centri Partiamo quindi da Villa Severi che sicuramente è l'apertura delle aperture più importanti che faremo qui a Pesaro Una villa che conserva una collezione d'arte molto importante, la collezione di Meuccia Severi che fondò la fondazione nel 2008 proprio perché voleva lasciare alla cittadinanza questo patrimonio da ammirare, da conoscere e proprio anche come un insegnamento al bello e al gusto che contraddistingueva la proprietaria stessa che da sola si era occupata di collezionare questi beni così come aveva disegnato la villa, la piscina e tutto quello che ci circonda A Pesaro poi ci spostiamo nelle colline, nelle prime colline, nei dintorni e quindi apriremo a Candelara sabato e domenica invece saremo a Ginestreto A Candelara visiteremo il borgo e avremo modo nel pomeriggio alle 16.30 di fare alla Pieve di Santo Stefano una conversazione sulla chiesa di San Francesco, una chiesa abbandonata al centro del borgo che sta per beneficiare dei fondi del PNNR, Villa Montani e che sapete è sede della fondazione Scavolini che ha gentilmente concesso questo luogo, una villa che ha una lunga storia e che conserva al suo interno dei segni decorativi probabilmente che sono di mano o di Gianandrea Lazzarini o di qualche suo allievo C'è la Pieve Vecchia di Ginestreto che è un'apertura secondo me sorprendente perché è un luogo che è caduto nell'oblio ma che in realtà conserva al suo interno dei magnifici esempi di pittura votiva rinascimentale che furono restaurati nel 1992-93 proprio sempre grazie alla fondazione Scavolini avremo con noi Rosaria Valazzi all'epoca soprintendente che aveva curato i restauri e grazie a Callegari che li aveva studiati così come la restauratrice di questi dipinti apriremo ad Urbino tre importanti beni di proprietà dell'Università di Urbino Carlo Bo quindi la Biblioteca di San Gerolamo, Palazzo Albani e l'Orto Botanico avremo poi aperture a Fano dove i visitatori concentreranno la loro attenzione sulla piazza 20 settembre e quindi su tutti i beni che si affacciano su questa piazza con particolare attenzione anche ai beni archeologici nascosti nel sottosuolo andremo a Fossombrone dove tra le passeggiate e le visite di beni storici e artistici mi preme sottolineare un percorso particolare, nuovo, acqua e seta cioè si parlerà della laboriosità delle donne forse impronesi che si erano occupate della produzione della seta che a Fossombrone è andata avanti fino al 1953 apriremo a Cagli il torrione di Francesco Di Giorgio Martini e la rocca sempre di Francesco Di Giorgio Martini e si potrà per la prima volta percorrere il soccorso coverto che è un percorso di 365 gradini che porta dal torrione appunto fin sotto la rocca abbiamo Macerata Feltria per esempio è una nuova apertura quest'anno per la prima volta lì parleremo delle due chiese conventuali di San Francesco e Santa Chiara lì abbiamo naturalmente l'Amoli, il luogo del cuore per eccellenza Montefabri, Montefabri sarà un'altra apertura molto carina questo piccolo borgo che è rimasto intatto nel tempo quindi ancora il suo impianto medievale perfettamente conservato Sabato 9 aprile alle ore 9 del mattino per l'intera mattinata al centro Arti Visive Pescheria si terrà la prima edizione degli Stati Generali dell'Accessibilità si tratta di un tavolo di lavoro promosso dal presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini che affronterà le criticità per quel che riguarda urbanistica e mobilità nell'occasione sarà presentato il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e il report del garante dei diritti dei disabili Marusca Palazzi in occasione del suo primo anno di insediamento riportare la natura, il verde, i fiori nelle vie della città a partire dalle finestre e dei balconi della propria casa è l'obiettivo del progetto Rinascitalia arrivato ieri al Parco Miralfiore come prima tappa marchigiana dell'iniziativa che toccherà altre 644 località italiane per motivarle ad aderire alla filosofia della certificazione di comune fiorito per l'occasione proprio ieri al Parco sono state posizionate 50 casette per la nidificazione di uccelli ed è iniziata la semina di 5000 metri quadrati di Prato Fiorito dopo tanta attesa il concerto pesarese dei Manneskin che come sapete è stato rimandato già per ben due volte ha una nuova data il prossimo concerto appunto sarà il 23 febbraio 2023 tournée dunque spostata di ben 11 mesi con Pesaro che anche però nel nuovo programma rimane la data d'apertura per quel che riguarda il tour nei palasport italiani resteranno comunque validi biglietti già acquistati per la data pesarese annullata dello scorso 18 marzo la band italiana più acclamata del momento ora si concentrerà sul tour americano che partirà invece nel mese di ottobre e dal rock dei Manneskin passiamo a parlare di un altro genere musicale è quello del concerto del conservatorio di ieri incentrato su Johann Sebastian Bach in occasione della giornata europea della musica antica si tratta del secondo dei dieci incontri musicali presentati alla città da allievi e docenti del conservatorio vediamo a tal proposito quindi un estratto dell'esibizione del maestro Luca Scandali all'organo della chiesa monumentale di San Giovanni Battista di Via Passeri continuiamo a parlare di musica in questo caso andiamo a scoprire un'altra iniziativa di Pesaro capitale della cultura per la prossima estate infatti viene lanciato il festival nazionale il bel canto ritrovato con otto appuntamenti in programma spalmati in 19 giorni parte ufficialmente il primo festival nazionale del bel canto ritrovato è un nuovo festival musicale per il nostro territorio che si svilupperà da Pesaro passando per Fan Urbino e altri centri della regione Marche quest'anno in particolare Arcevia e Montemarciano si tratta di riproporre un periodo che costituì una vera epoca dell'oro per l'Italia la prima metà dell'ottocento cosiddetto bel canto quindi il titolo della manifestazione il bel canto ritrovato saranno una serie di appuntamenti dal 23 agosto al 10 settembre l'idea alla base di questo festival è quella di rispolverare i grandi artisti dell'epoca ma che poi sono stati in qualche modo dimenticati assolutamente sì perché in molti casi è stata anche la sfortuna come spesso capita anche agli artisti moderni alcuni sono stati molto in voga allora e poi per qualche motivo contingente dimenticati ma non va dimenticato invece che molti di questi compositori erano ispiratori dei grandi, loro maestri o loro allievi o anche semplicemente dei loro concorrenti che hanno avuto chi più fortuna, chi meno fortuna e come nel campionato di calcio uno vince lo scudetto e chi arriva secondo viene dimenticato e non è il caso invece di dimenticare questa grande quantità di compositori che allora ebbero un successo ottimo, vertiginoso in alcuni casi e quindi il nostro obiettivo è quello di ridare voce a queste bellissime musiche è un'iniziativa che ha molto di simbolico anche rispetto agli elementi che ci hanno resi capitale della cultura per il 2024 è un festival dedicato al bel canto quindi un festival che va a indagare dal punto di vista artistico tutta quella fase tra la morte di Mozart fondamentalmente dell'avvio di Rossini, della seconda parte del Settecento che ha caratterizzato in gran parte la formazione musicale di quel periodo sicuramente anche la formazione musicale poi di Rossini tutti quelli che hanno fatto poi la storia dell'opera moderna per così dire ma che è fatto da centinaia e migliaia di storie di compositori di titoli veramente importanti che raramente vengono rappresentati Primavera, estate, autunno, Gabice Mare questo scorso fine settimana ha presentato il ricco calendario di eventi culturali e turistici che accompagneranno il comune di Gabice per tutto il 2022 Oggi presentiamo questa nuova veste delle quattro stagioni perché ci eravamo lasciate a Natale con gli auguri di cuore e quindi avevamo introdotto questo simbolo che si coniugava poi al nostro nuovo brand Gabice Maremonte abbiamo deciso insieme alla nostra grafica Laura D'Amico di portare avanti questo progetto e di lanciare le stagioni del cuore è un progetto ambizioso perché comunque è la prima volta che presentiamo diciamo tutta un'annualità e quindi ci teniamo particolarmente a far sì che Gabice Mare sia conosciuta come una città con il cuore la struttura è stata tutta incentrata sul cuore che in realtà era stato l'elemento cardine dell'inverno questa volta invece l'abbiamo declinato nelle quattro stagioni perché Gabice è un luogo da vivere in tutte le quattro stagioni appunto cercando di riprendere gli elementi naturali che caratterizzano ogni stagione vediamo infatti alle mie spalle un cuore che è primaverile con tutti i fiori creati dall'elemento iconico creato per il city brand di Gabice Maremonte della Ginestra per poi passare all'estate dove in realtà abbiamo fatto proprio un inno al mare con il Mississippi, gli elementi dei pesci, del mare, le vongole, le alghe per poi arrivare alla fine dell'estate quando arriva settembre con un omaggio alle scuole perché lì sarà il tema centrale con l'autunno perché è il momento in cui i bambini scoprono gli elementi autunnali dalle foglie, le castagne, Halloween con la zucca Alla fine di tutto riprendiamo i colori da cui eravamo partiti al Natale per chiudere felicemente insomma l'anno 2022 riprendendo una frase che c'è appunto nel murale screato a Gabice Maremonte quel brillare che è anche dentro di te Presentiamo gli eventi principali quindi comunque comincieremo sempre dalla Pasqua dove con il risveglio della primavera avrà il suo momento di apice con la settimana cicloturistica proseguendo con Urbis Plantarum Basket Street Festival che è un festival dedicato agli artisti di strada e al food che ci accompagnerà sempre nelle vie del centro per venire nel mese di maggio a Gabice Monte con il tradizionale appuntamento dei concerti al tramonto che ci accompagneranno per tutte le domeniche di maggio come da tradizione e poi sempre nel mese di maggio ospiteremo l'arrivo della Gran Fondo degli Squali una gran fondo ciclistica di alta importanza e di rilievo che ospiterà grazie alla collaborazione con i bagnini di Gabice Maremonte il punto di arrivo con una grande rostida di pesce azzurro a significare proprio l'accoglienza del nostro territorio e la Stella Maris che ci sarà quest'anno a giugno Disco Diva è il festival della disco music che ormai si è radicato con un grandissimo successo all'interno del nostro territorio e è stato già riconfermato per la fine di giugno gli appuntamenti culturali, Gabice e Rosa il cinema Sottomonte che per tutta l'estate si svolgerà nella nostra spiaggia libera Sottomonte come punto proprio suggestivo di presentazione di un format di cinema Onde Sonore, l'evento Candele sotto le stelle con cui condividiamo l'organizzazione insieme a Pesaro e Gradara gli appuntamenti del mese di agosto gli appuntamenti più sportivi che accompagneranno ovviamente l'ospitalità di tutti i nostri turisti con delle lezioni di yoga all'aperto che vengono sempre comunque messe in campo dall'organizzazione comunale l'evento nazionale e internazionale Italian Gravel Trophy nella prima settimana di settembre per poi arrivare accompagnando con diverse attività anche il periodo autunnale fino all'arrivo ovviamente dell'inverno che porterà durante il periodo natalizio di nuovo gioia e colore E concludiamo con una notizia di sport in questo caso parliamo di football americano voi sapete che Rossini TV l'ha seguito per tantissimo tempo il football e continueremo a darvi notizie per questa squadra sportiva pesarese sabato 26 marzo infatti a Ravenna parte la nuova stagione di football americano degli Angels Pesaro con diverse novità Pesaro infatti ha deciso di affidarsi all'allenatore Jack Campbell che fu già head coach nel lontano 1993 stabilitosi in Italia da tempo il coach americano ha accettato l'invito del presidente Frank Fabri che dopo tanti anni saluta coach Giorgio Gerbaldi passato a Modena e allora in bocca al lupo agli Angels di Pesaro in bocca al lupo chiaramente a Frank Fabri adesso andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV e allora questa sera vi faremo vedere quello che è stato un evento tanto partecipato organizzato da 50 e più della Confcommercio Pesaro Urbino la premiazione dei maestri del commercio premio anti-racket un premiato veramente d'eccezione che ha lottato contro la mafia e la criminalità quindi guardate questo speciale che è veramente davvero molto interessante e poi vi ricordiamo che questa settimana in via del tutto eccezionale a causa dell'accavallarsi con altre partite di altre squadre proprio nella giornata di giovedì abbiamo deciso di anticipare a mercoledì quindi domani il programma, la nostra diretta di Insieme a Canestro domani alle 21.20 quindi saremo in diretta e gli ospiti saranno questi Franco Arceci che è stato appena eletto nuovo presidente del consorzio Pesaro Basket e Giorgio Secondini che è ex allenatore della VL e poi giovedì 24 marzo alle ore 18.30 trasmetteremo la partita Ital Service Pesaro contro Ciampino Aniene in diretta su Rossini TV alle 18.30 mentre venerdì ringraziamo il Monsignor Piero Coccia per concederci la possibilità di trasmettere in diretta dal Duomo di Pesaro alle 18.30 la Santa Messa e preghiera di consacrazione al cuore immacolato di Maria della Russia e Ucraina per chiedere il dono della pace un momento molto importante che vi consigliamo di seguire venerdì alle ore 18.30 mentre domenica alle ore 11.15 le nostre telecamere saranno presenti alla parrocchia San Carlo Borromeo in Vianitti quindi invitiamo tutta la comunità a partecipare alla Messa e rendere appunto la Chiesa viva e gremita di persone e invitiamo anche coloro che non possono accedere alla Messa o non possono andarci in quel momento alle 11.15 di collegarsi su Rossini TV per seguire appunto la diretta ricordatevi che la replica di questa stessa Messa verrà presentata alle ore 18.00 Ho detto davvero tutto carissimi amici adesso vi lascio con il meteo ma vi aspetto anche domani mattina puntuali alle 7.20 con la nostra rassegna stampa grazie a tutti